Musica Cari amici benvenuti in questa nuova puntata di Minecraft Siamo tornati su Super Minecraft Maker Yeee E abbiamo notato che le pagine sono sempre di più Guardate un po' quanti livelli che state creando per noi Quindi è davvero fantastico Noi vi ringraziamo di cuore per tutto il vostro supporto e la vostra dedizione nel creare delle cose per noi Grazie E abbiamo aperto qualcosa Eterna Love Art by Giorgino03 Grazie Oh che carino E' un modo diverso per interpretare le nostre facciolze no? E' piuttosto simpatico Quindi abbiamo la possibilità di vederci come saremmo carini se le skin di Minecraft invece di essere larghe Quanto lo sono di solito E' un pochino più strette E noi probabilmente ci faremmo esattamente così vero? Più o meno Più o meno più o meno siamo veramente molto carini Ma la Birch è in fiamme Perché è in fiamme? C'è che fantozza Ciao fantozzi la mini Cocorina se la pecora in Minecraft avesse questa faccia Io direi che bisognerebbe fare un restyling estetico a Minecraft in modo da far sì che tutte le cose abbiano 5x5 pixel fondamentalmente Tutto pucci Pucci o pucci o pucci o pucci o pucci è cortissima anche piccinina E' che carina Vedi ci vorrebbe anche poi una coda da ratto lunga 16 blocchi Ma no che brutta poi E siamo arrivati alla fine Questa non era quindi una vera e propria mappa ma una rappresentazione di uno che adora fare le pixel art e voleva rappresentarci in maniera un pochino originale ma comunque simpatica Perché no perché no fare le mappe in Super Minecraft Maker può voler dire anche questo Quindi mettiamo subito un bel like al livello sicuramente molto carino originale e passiamo al prossimo Complimenti a Giorgino03 per Eterna Love Grazie Proviamo di nuovo a caso questa volta scegliamo Eterna Love con sorpresa Con sorpresa se ce l'ho contito Che bello Che bello Vediamo subito che c'è un libro El più Kiria uguale a Love Non tutti i giorni ma Libro di 50 pagine uguale a Love Birch Birch Ciao a Tenerove Questa mappa l'ho fatta per voi con tutte le cose che odiate e adorate Buona fortuna e Birch 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 Kiria Io E' Cosa Una Pecora Beh El Poi mi sono anch'io E' Un Testificate Una birch Buona fortuna e Tenerove Grazie per provare questa mappa Questa è la parte di Kiria E' bucciolosa è tutta piena di pecore rosa Guarda lì le pecore Le calpesto Posso calpestarle Non c'è più di lieto No esco esco Tienila ti servirà No La falce di Dovachiria Non è per le pecore quella Non hai detto? Non è per le pecore Vai più avanti Cosa è successo Queste pecore Sono resistenti a Dovachiria Quindi Dovachiria non può fare male alle pecore No ma i testifiche si però Parte di El Posso minuminare i testifiche come voglio Ma non ho punto di esperienza Quindi non lo posso fare Lo chiamerei Brufolo e puzzolo Muori 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 Te l'hanno data guasta eh Scusa Sembra fa Ah il mostro testifiche Abbiamo creato un mostro Fusione Che bello Sono spai di tutti Se le mangiate già per cazzo Ah via 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 Giampo a cazzo se le ha appena mangiate Non fidatevi mai di quello che mette in penta Ah ecco con cosa lo fa lo spezzatino lui Disboscatore di birch Il problema è che non le fa distrugge Questo è davvero un peccato Che non si possa mettere un pochino più di interazione Parte di Ella e parte di Chiria Ma perché una volta tanto non posso essere Chiria Ehi sono Chiria Mi fanno il percorso più facile Quindi non muoio Oh che bello È così facile Che muori Perché dovevo aspettare Vedete La frenesia di Chiria Poi è un problema Scusate Una volta tanto Fatemi essere Chiria Oh Che be... Esattamente Iguale Farei più volte lo stesso errore Scusa ma la tua parte com'è invece? La mia parte Sembra cattiva Cioè non lo so La mia parte è difficile Guarda salto E c'è il ghiaccio E perché? Io c'ho il ghiaccio E tu no Cioè è cattivo Ma perché io c'ho il percorso? Ve lo volete ficcare in tasca? Non lo so E tu non l'hai fatto? Ho fatto il mio E non l'ho fatto il tuo Va bene Va bene È giusto che sia così Ho la spruce bot Quindi la spruzzo per terra E vado E devo fare il percorso a ostacoli Per finire di sotto Ora vai 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 di sotto Posto real Ah che bello Abbiamo due cagnolini Sono carmella e salatino Eh sì Sono proprio loro Ti manca un cesto Se non sai dove dormire Andiamo qui sopra E cosa troveremo? Cosa troviamo? Chi c'è questo? È Norvi Ma le Guarda lì Le sue norvittime Ci stavamo dimenticando Di dire che questa mappa È stata creata da Lunzi Grazie Grazie mille Molte di voi ci chiedete Potreste salutarci In un video Noi non possiamo Metterci più di tanto E dire ciao tu Ciao quell'altro Ci farebbe piacere Ma avrebbero dei video Infinitamente lunghi Quindi non chiedeteci Perché non possiamo Però Vi diamo tantissimi sistemi Per ovviare il problema Ovvero Se ci fate una fan art La mettiamo a fine video Comunque comparirete Se ci fate una fan made Una mappa su questa modalità Di gioco Oppure qualunque altra cosa Che possa essere utile Per potervi nominare In un video Allora sarete Salutati molto Volentieri Quindi ciao a tutti Ciao Lunzi In questo momento Mi dispiace Tana Love Se ho cercato di impadronirmi Del vostro castello Ma è più forte di me Scusate Ma un giorno Riuscirò ad uscire Vedrete E io mi impadronirò Del mondo Maledetto No Viva Stai in prigione A mangiare solamente Ragù sporco Di pavimento Non è che ti importi molto A lui Due di più uguali Che bello Un gatto zuzzone Un gatto zuzzone Va bene Proviamo a fare Un mini drop Easy Uh Mini Sarai riuscito A fallirelo solo Se fossi veramente Kiria Basta Ok abbiamo la potion Swiftness E ora possiamo andare Più veloce Dal vento Verso la fine Del livello Grazie 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 a Tornalove Per aver giocato La mia mappa E da quando avevo Quattro anni Che guardavo i vostri video E adesso ne ho undici Non esiste da sette anni Il canale Però eh Come fosse E come passa veloce Il tempo Con voi ho vissuto I momenti più belli Della mia vita Vi ringrazio tantissimo Voi siete i migliori youtuber Del mondo intero Grazie a questi momenti Vissuti con voi Noi tutti Vi vogliamo bene Come i vostri cari iscritti Grazie ancora Ma grazie a te E grazie a tutti Level clear Mettiamo un bello Mi piace Naturalmente E concludiamo Il livello Questa volta Tocca Eternal Love Cosa farebbero Tan 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 Linguaggio italiano Tradotto proprio Linguaggio Oba duba Di pizza e spaghetti Il bircese Lo conosci tu Benvenuti nel mio primo livello Eternal Love Dovrete giocare a turni Te e Kiria Ve lo dirò io Quando cambiare E tu ne e web O mirp O im len E volando Trete O le live Vella È speculare È uguale all'altro cartello Ma si legge all'altra parte Eh Per simmetria È geniale La simmetria speculare È proprio su un altro livello Spero che bruciano Quei cartelli Una cosa Quando ci sarà lo standardo blu La domanda sarà per El Invece se sarà rosa Sarà per Kiria Ricordatevi che gioco è Cosa farebbe Kiria o El Riniziamo El Preferirebbe Uccidere Kiria O uccidere tante pecore Ma ti offendo A seconda La risposta Ogni tanto Ogni tanto No Mi interrasso Uccidiamo un po' di pecore Ma si Dai Uccidiamo Tanto a che servono Lo so Per Kiria sarà una rovina Se ne è uccito così tante Però lei sarà ancora con me A fare il video Sì ma tu ci sarai ancora Mi vendicherò per le pecore Kiria preferirebbe Uccidere 3000 Gian Gingilli Con la falce O uccidere È ovvio Gian Gingilli Ah meno male Sei così gentile Te dopo Se uccidi 3000 Gian Gingilli Nessuno te ne userà i piedi Meno male El preferirebbe Far sposare Kiria con Gian Gingillo O far sì che lei odi le pecore Gian Gingillo è la tua sorella Se lo sposa Tu sei figlio unico Nel senso Che Kiria odi le pecore Naturalmente Giusto Come si possono odiare le pecore Ma dai Come come si possono E la risposta sbagliata Come si possono odiare le pecore Io le odio tutti i giorni E sono ancora vivo No non lo sposano mai Gian Gingillo Mai Una volta è vita mia Kiria si abituerà a falsen usare i piedi Mai Mi devo travestire da Gian Gingillo Adesso Siamo ridotti a tanto Devo ucciderti durante il sonno No è giusto Potrei sposarlo Poi lo ammazzo La prima notte di nozze Se al massimo c'è la sua collezione Di unghi dei piedi D'eredità Non è il massimo Non ne faccio di niente Kiria preferirebbe Che lei si sposasse Con Gian Gistrillo O con una pecore Ah Gian Gistrillo femmina però Non mi interessa Sei zofilo per caso Si sposasse con Gian Gistrillo Vedendo la domanda precedente Io andrei su Gian Gistrillo femmina Che non sembra neanche male come voce Ma va bene che maschio Non è un problema El si abituerà a urla di Gian Gistrillo femmina Eh vabbè mi dispiace Io col piedi te con le urla Faremo gli amanti clandestini El preferirebbe salvare uno stormo di testivi Chito di gallina Che domande sono Non abbiamo mai sentito uno stormo di testivi Sono gli uccelli testifiche diventati Gli testifiche sono così adorabili Cosa adorabili Kiria preferirebbe Togliere tutta la simmetria del mondo O far governare le pecore Allora le pecore possono governare Solo se sono io il loro capo Quindi far governare le pecore Come imperatrice Mi chiedo Se uno tolisse la simmetria Cosa succederebbe? Eh non ce la farebbe Poi Ma che se me ne frega La simmetria può anche restare Va bene Comunque vi immaginate Fare un testificate Anche lì Stretto stretto Con la La stessa capacità grafica Di pixel art Di Giorgino Zero 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 Siamo e poi No 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 Vediamo Il mondo è diventato Una pecora Letteralmente Bravamente finito E turn the love Cosa farebbe Lascia un like Assolutamente Si è vero Comunque vedete Se uno scrive Di lasciare un like Uno se lo ricorda E facilmente Ma che figurati Di commenti di mi piace Lo scansio direttamente Beh comunque Io mi sono divertito A crearla L'importante È sempre quello Dedicato a turn the love I miei youtuber preferiti Ma grazie Grazie di cuore Per ricercato questa mappa E adesso Passiamo alla prossima Grazie ancora Xxfolder Xx E adesso Andiamo di nuovo A caso E proviamo Per esempio In ten the love Costa 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 Ovvero Una fantastica Montagna russa Da fare così Gna 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 Da fare in insalata Direi Buona Va bene andiamo Non vanno In insalata russa Vai Vai Insalata russa Ma senza una russa Tiene svegliere la gente Più si sale Più si sale Io l'ho fatta Una volta solo In tutta la vita Le montagne russe L'ho passato il tempo con gli occhi chiusi a urlare Io ho fatto tipo il bruco Ma urlare in quei momenti ti fa sentire Parte di un nuovo mondo Ok e il livello era scritto Anche in inglese E' simpatico pensare che il titolo fosse in italiano Però in realtà questa mappa voleva Che fosse Internazionale C'erano i complimenti a DJ03YT O Youtube Diciamo che potrebbe essere molto carina L'idea di fare una serie Di montagne russe Una serie di binari in questo modo Però magari da qualche parte Mettere le pixel art del primo livello Oppure magari comunque Qualche cosa dedicata a noi Un mondo un pochino blu e magenta E abbiamo finito Che più magenta Blu è bellissimo Mettiamo comunque un like Perché comunque l'idea ci è piaciuta E proviamo ad andare ancora avanti Vediamo un pochino che cosa ci capita Adesso a caso E Ternalab contro Gianni Gelo Sì 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 a morte Gianni Gelo A morte con la ghigottina di nuovo Perché Perché no E' la domanda perché no Vediamo cosa troviamo Importante e storia Questa è una mappa creata da Generale Miniera Grazie a Ternalab per aver giocato Questa mappa Vi adoro e vi seguo ormai Da tre anni Siete in assoluto i miei Youtube preferiti Siete fantastici Grazie di tutto Noi adoriamo fare le cose tipo fan made Perché è uno dei modi più semplici Per avere dei contatti Comunque con voi Perché noi possiamo leggere Quello che ci dite In diretta Ed è davvero bello Perché condividiamo Tutte le cose fantastiche Che ci scrivete Anche se continueremo sempre Ogni volta che possiamo A rispondervi anche Privatamente Su Facebook Instagram E su tutti i social network Caretana nave Dovete salvare il mondo Per la milionesima volta Tipo il Rise of the Pigment Eh ma L'ho salvato poco però eh Gian Gigi Gillo ha conquistato il mondo No Ed ora insieme a Giammata Ha deciso di piantare birci In tutto il mondo Va bene Ed ormai Il legno di birci È l'unico legale Che viene scoperto Mentre utilizza legni diversi Alla pena di morte E allora se hai una birci Li va bene Perché almeno è legale Se no ti metterò il logo Non voglio essere Un pezzo di legno Sinceramente No non sai come Pinocchio Il burattino tu Sono una pecola rosa Oh che carino Quella che lana so Non stare anche Da carizzarmi la schiena Mi farebbe inquietudine Ok ok Andiamo un po' Face di birci Che brutto mondo Birci 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 Uh Ok non era un parkour Immediato Ma neanche davvero difficile L'importante è quello Ai 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 Perché tutta Questa Diamine di roba A me sembra tantina Copriti bene Che fa freddo Mi copro Che fa freddo Sono 70 gradi all'ombra Mi sembrano tanti Ok Vado Io vado gente Che troverò qui dietro Oh Ha la spada Ha la spada Incattata Buttalo di sotto Che cosa ho di buono Ho la golden apple E la fire resistance Ma non ce l'hava Quindi non importa Buttalo di sotto E festa finita Buttalo di sotto Ma no Ci sono le barriere laterali No 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 Ok paura No al momento buono Maledetto Ecco che si arriva a fire resistance Ecco cosa si arriva Perché non ho presa Perché non ho presa Gia 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 Ricordami che ho lo scudo Aia aia Ah tieni lontani Tieni lontani Bello il tuo scudo Ti piace il mio scudo È lo scudo Che ci permette Di riconoscerci anche Da lontano Anche se i pigmen Non hanno gli occhiali Riscano a colpirci Lo stesso benissimo Non c'avano gli occhiali Ma per me ci vedono bene Lo stesso Basta andare in fiamme Fiamme Mi sa che te mi dà L'effetto di un po' di roba Ho la domanda Per Woody Radarly E anche per Una specie di Quiz Da fare In trivia Croc Kingdom Doms Sì anche una domanda Preferiste affrontare 50 pigmen O 50 silverfish 50 silverfish Direi E infatti Ce l'abbiamo fatta Facciamo 100 silverfish O 50 pigmen È una domanda difficile Woody Radarly Voi cosa preferireste Siete pigmen Oppure silverfish La domanda è Che vi faccio Voi sapete In quale serie Ho detto per la prima volta In fiamme Neanche chi la sa Tu non dire naturalmente Ok Posa qui le armi Posiamo tutto E andiamo verso La vittoria O c'è qualcosa L'armatura Inquietante C'è anche l'armatura Va bene Anche lo scudo Ma mi piace Lo scudo Lo tengo così Lo scudo Almeno quando vado in giro Ti pare dalla puzza di pedra Esatto Per cui è schifoso Trova la spada Che ti permetterà Di uccidere Già gengillo Per mettere fine Al suo impero Usa solo la fine Ok Che puzza Che puzza Mamma mia Parla poco Su scudo Fatemi passare Guardali che non riesco Nemmeno a passare Ecco eccolo qua Eccolo qua Presto Mamma mia Lavatevi Lavatevi Ok ce l'ho Spada Fortissima Con sorrisino troll Chi non usa la spada di legno Che sembra un stuzzichino Domanda Chi ria ucciderebbe O risparmierebbe Già gengillo Io non risparmio mai Un testificate Uccide e risparmia Un po' e un po' Cioè non lo uccide nel tutto Risparmia il cadavere per dopo Ma hai mai visto Vedete nel lab Va bene Dall'esterno Sembra il centro psichiatrico E nel lab Tutto sembra il centro psichiatrico Già gengillo Spera che il labirinto Sia di vostro gradimento Mi dispiace La patata nel chest Ma è bibide mouse È bibide mouse È una patata marcia Quindi devo concentrarmi un attimo Mi raccomando Tutti nei commenti Hashtag patata Ce la farò Ce la farò Vado Vado Non sbaglio Di qua No hai detto Non è sbagliato Non l'ho considerato abbastanza Non l'avete scritto Ora di più Hashtag patata Ricominciamo Ce la faccio Ce la faccio Ce la faccio Aspetta 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 Che la patata Sia con te bibide mouse Ti aiuterà in questa scelta Bibide mouse Aiutami Aiutai tu Dove è andato L'ho rimangiato al volo Ma a me faceva schifo Di qua Sì Anche bibide mouse Funziona Grazie a tutti Per l'aiuto nei commenti Eccolo qua Giangi Muori 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 Ma l'ammazzo Finalmente Oh No Che è successo Pensate davvero Che Giangi in giro fosse così intelligente Il povero Giangi Soltanto stato pagato All'accattivissimo Normi No è Normi Non mi fai schifo Vai giù È andato giù E si è di solito È andato in galera Di nuovo Grazie per aver giocato a questa mappa Ma soprattutto grazie Per i sorrisi Che ci regalate ogni giorno Siete migliori Grazie di cuore Potete salutare il mio amico Giuseppe Anche lui vi segue Guarda ogni vostro video Anche questo è un attimo modo Per farvi salutare Ciao Generale Miniera E ciao Giuseppe Ciao Grazie davvero per questo livello Ci siamo divertiti sicuramente molto a farlo Mettiamoci un bel like Perché è sempre divertente far capire alle persone Che quello che hanno fatto è stato apprezzato E abbiamo fatto qualche nuovo livello Per questa puntata di Super Minecraft Make Sono andati completamente casuali Cercheremo comunque di rifare altri livelli Anche la prossima volta Come vedete la lista che li mette ogni volta cambia Quindi non si può mai sapere quali faremo Speriamo sempre di uscire a farne il più possibile Noi vi ringraziamo tantissimo E tutto l'impegno che avete messo nel creare Tutte queste cose fantastiche per noi Davvero molto divertenti Speriamo che vi sia piaciuto Fateci sapere se vi vanno altri episodi Non li vogliamo fare Perché comunque le mappe sono davvero tantissime E ci dispiacerebbe lasciarle lì nel dimenticatoio Grazie di cuore per essere stati con noi Eeeh Alla prossima Con Yetan Love Ciao 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 Grazie a tutti.